A me quello che mi dispiace è per questa città e per la società, ma per questa città... Poi non voglio fare un altro commento, però è un dispiacere a tutti i giornali, non per il calcio, ma per altre brutte cose. Credo che questa città non lo merita e noi possiamo essere la pagina pulita del Bari. Vedendo l'Albinolef hanno l'atteggiamento identico sia in casa che fuori casa, cercano di sfruttare queste ripartenze, soprattutto sugli esterni, dove sono bravi, con Foglio, Girasoli, Cristiano, quindi bisogna stare attenti alle loro ripartenze. L'andata, come hai detto tu, fu una partita strana, un buon primo tempo, poi abbiamo concesso ripartenze al Bari. L'Albinolef è un vantaggio, quindi dobbiamo stare attenti perché avranno lo stesso atteggiamento che hanno di solito anche fuori casa. In passato abbiamo sempre reagito, è quello che mi aspetto anche domani. Abbiamo sempre reagito bene dopo una situazione non favorevole, quella è la mia speranza.